Di ogni gruppo che vuole fare tutto di testa sua Sei italiano? Sei? Sei italiano? Siete tutti uguali, tutti uguali Tutti coi macchi neri Maggio spaghetti, donna e mandolina Dici cose e poi fai altro Vi volete sbrigare che dobbiamo partire, cazzo? C'è nervosismo, eh? No, c'è tensione Settimana un bellino abitato da spirito di Gigi Correggio e Euro 135 con prezitassi Ma dopo, dopo Un dito di nastra, polveri, lute nei nazzini Beluga, Ficcinci, Cicci, Gotham, Cicci, Lucca, Riei, Rai Di palma di Mignotta Anzioni, attenzione Un giorno in pretura Con condizionale, chi spostamenti militati Per tutte le valette ricordo Setticento Tanto? Un dito di pizzerina Gigi sul famiglio organa Costa di due mia purta Usa di cizia Tanta, tanta, tanta Tanta in D&D E' sempre questo Don cena in R&D Ristorante, pizzeria Sì E spostamenti in R&D A tante, tessane Presso museo in R&D Rompimento di Paz E' una buca Un fai Un fai E' un fai Un fai E' un fai E' un fai E' un fai E' un fai Un fai E' un fai Un fai Un fai Un fai Un fai E' un fai Ciccola 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 E' un po' lento, è il tecnico, non è solo il tuo. Sei un ragazzo atletico ma soffre giù una disfunzione per la quale hai le tette da uomo? Ma no, fai una cosa. Si parassi delle tette da uomo, grazie al rivoluzionario prodotto farmaceutico Cinnastop. Certo. Con Cinnastop risvincerai a vivere da uomo senza tette da donna. E con Cinnastop cerca masculo, l'additivo sessuale che te lo fa turcito come un cocco. Cinnastop e masculo sono prodotti trinacria farm. Abbiamo le trovo in studio, ma è molto bello. E' un po' lento, è un po' lento. E' un po' lento, è molto bello. Grazie a tutti.